Oggi cominciamo un altro capitolo, il capitolo di geometria delle masse, che è piuttosto importante perché per studiare il moto di un sistema di punti materiali è importante vedere come sono messi nelle loro configurazioni, per questo si parla di geometria delle masse. Il primo concetto che si introduce è il concetto di centro di massa. Allora, supponiamo, allora fissato ad arbitrio, come ci parla di noi, un punto O, si definisce centro di massa e si chiama piccolo zero del sistema, supponiamo che sia n punti materiali, piccolo m, i con i che va da 1 a n, il punto definito in questo modo, n di zero meno uguale a somma, i che va da 1 a n, n con i, piccolo i meno. O, questo m è la massa totale del sistema, cioè la somma delle masse n con i. Questo è un vettore, questi sono vettori, quindi è la, definita da questa cosa, una serie, una specie di media ponderata, se voi dividete per m, è una specie di media ponderata di questi vettori, quindi no. O, questo natural vale per i sistemi cosiddetti discreti, cioè p con i, mi, con i che va da 1 a n, è un sistema di punti discreti, nel senso, è un sistema di punti, no, io non l'ho, no, lo vedete, però noi affronteremo anche casi di sistemi continui, ne ho un po' parlato, ma è una cosa che non, diciamo, non è del tutto attinente alla meccanica razionale o comunque alla meccanica razionale a questo stato, tant'è vero che c'è proprio una materia a parte che è meccanica dei continui. Per ora ci basta dire che i sistemi continui sono continui geometrici, cosa sono continui geometrici? Che ne so, sfere, cubi, anche rettangoli, cerchi, segmenti, se avete notato, ho messo, queste cose stanno in R3, sono porzioni di R3, queste sono porzioni di R2, questo sta in R, nel senso, sono andata decrescendo di dimensioni. Sono continui geometrici, ma anche, possono essere anche cose più complicate, che hanno però una proprietà che è definita una funzione che si chiama Rho per ogni punto, è definita una Rho che è funzione di P e di T, scusate il bisticcio tra P e Rho, ma anche qui ci posso fare un po' perché la densità, che si chiama densità, è definita, si chiama Rho, che si chiama densità di massa, tale che se si fa l'integrale sul continuo di Rho di P in DC, nel senso non specifico perché se questo è un, per esempio, è un cubo, questo è un integrale triplo, se questa è una superficie, è un integrale di superficie, è un integrale doppio, se è un segmento, è un integrale di linea, è un integrale normalmente per un intervallo a P, quindi a seconda di com'è il continuo e così, questo dà la massa totale del sistema. Quindi, diciamo, la nostra massa, invece di essere concentrata punto per punto, è spalmata su un continuo geometrico. Questo è lo schema del continuo classico, anche il continuo newtoniano. Ripeto, non è cosa che ci competa, ci sono entrata, quando ho parlato dei vincoli, qui ci devo entrare perché ne abbiamo già parlato senza dirlo, perché ci sono i dischi, ci sono aste, no? L'asta, per esempio, è un continuo rigido, anche materiale, se diremmo una massa, assimilata da un segmento, cioè il continuo geometrico del segmento, poi c'è una certa massa, è un'asta. Un disco è un cerchio, è con una certa massa, è così via. Allora, se Rho è costante, se Rho è uguale a costante, il continuo si dice omogeneo. Dice, aveva detto che non finiva, che finiva? No, e questo bisogna, lo dica, omogeneo. E allora, quando si fa la massa, quando si calcola la massa e si fa l'integrale di Rho in DC, Rho passa fuori, essendo costante, e qui viene l'integrale di 1, praticamente, in DC, quindi viene Rho e la misura di C. La misura di C può essere il volume, può essere l'area, può essere l'ubilezza, dipende dal continuo, e quindi il nostro Rho, altri non è che la massa fratto la misura del continuo, quindi la massa fratto il volume, o la massa fratto l'area, o la massa fratto la lunghezza. Io dirò tutto con, quindi la definizione, diciamo, del centro di massa che ho fatto con il sistema di punti, si può dare, il sistema discreto di punti, si può dare anche col continuo, allora, col continuo si deve scrivere che è N più 0 di meno o uguale all'integrale di C, di Rho, più meno o in DC. Rho, questa Rho, Rho per più meno o, questa Rho può essere costante e passare fuori, se no o no. Tutte le proprietà che dimostrerò sul centro di massa, tutte le cose che dirò, le farò con il sistema discreto, perché è più semplice, però basta sostituire al posto delle somme l'integrale, al posto delle masse, la densità, e via la stessa cosa. Quindi, d'ora in avanti, farò conto di avere un sistema discreto di punti. Allora, abbiamo definito il centro di massa, vediamo le proprietà di questo centro di massa. Allora, prima proprietà, non che le voglio allumerate, sono in ordine di, come dire, perché quella prima mi serve per dimostrar quella dopo. Prima proprietà, più 0 non dipende da ora. Dipende da ora. Dici, allora hai amato più 0, ecco bene, infatti ho detto 0, non ho detto più 8. Allora, come si fa a dimostrarlo? Infatti, io avevo detto, prendiamo un punto fissato dal bico. Infatti, mi è fissato dal bico. Allora, se ha o primo un punto, un punto, allora definiamo un altro centro di massa. mp0 primo meno primo, verrà un altro punto, uguale a somme i, mi, pi meno primo. Su questo non c'è nulla da dire. Però, questo pi meno primo, una volta lo scrivo io, una volta lo romanzo, ma posso scrivere come pi meno o più o meno primo. E questo nessuno ne conosce. Allora, questo è uguale a somme i che vada a una m. m i pi meno o pi meno o più m perché quando si si fa quest'altro, sarebbe somme i, facciamo un passaggio, va. Vedrebbe, somme i che vada a 1 a m e mi o meno primo. O meno primo non dipende dalla sommatoria, quindi qui viene m. Allora, questo è m. Allora, questo qui è m per definizione data prima è m p0 meno più m m o meno primo. Ah, per ora ho fatto già le di prestigio. Allora, qui posso scrivere m p0 meno più meno primo uguale a m p0 meno primo. Perché ho fatto questo passaggio? perché avevo bisogno che ci fosse m qui e m qua. O primo qui e o primo qua. A questo punto io cosa posso concludere? che è m p0 primo meno primo è uguale a m p0 meno primo e quindi se ne deduce che p0 primo è uguale più con 0. Quindi, anche se io prendo un altro punto, non c'è, non... il centro di massa è quello. Quindi, dipende solo da come sono distribuite le masse, non dipende dal punto che prendo. Una cosa molto importante per i conti che dovrò fare, per i problemi che dovrò risolvere, il punto lo posso prendere come il mio padre. Allora, notate una cosa, una relazione molto insomma molto utile che useremo è questa. Siccome noi abbiamo definito che il centro di massa è tale che mp0 meno è uguale a somme imi pi meno se prendiamo un coincidente con p0 nel senso dopo aver trovato dove sta p0 allora vi prende 0 quindi 0 uguale somme imi pi meno p0 questa la finete a mente o ve la scrivete dove avete tutte le formule di matematica perché la useremo varie volte nel fare i conti quindi che la somma delle masse per p meno p0 fa 0 questa è una una relazione che viene spessiata un'altra un'altra proprietà del centro di massa abbastanza importante quindi 2 il centro di massa di 2 punti p1 di massa m1 p2 di massa m2 sta sul segmento che unisce p1 e p2 e lo divide in parti inversamente inversamente proporzionali alle masse quindi è più vicino 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 al punto di massa più grande o se m1 è uguale a m2 cioè se punti hanno uguale massa allora p0 è il punto medio del segmento p1 p2 allora dimostriamo questa cosa allora per definizione noi sappiamo che mp0 meno preso come ci pare è uguale a somme i mi p meno quindi posso scrivere m1 p1 meno più m2 qui sono solo due p2 meno allora prendiamo coincidente con p1 cosa viene mp0 meno p1 uguale qui viene p1 meno 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 m2 p2 meno meno p1 allora cosa si trova da questa da questa relazione che i vettori p0 meno p1 e p2 meno p1 sono paralleli paralleli e ci hanno lo stesso verso perché le masse sono positive quindi se io ho p1 qui e p2 qui allora p0 meno p1 può stare p0 qui p0 meno questo oppure potrebbe stare io non lo so perché ancora non ho dimostrato nulla potrebbe stare anche qui facciamo la stessa cosa perché questo che ho detto lo devo dimostrare quindi allora facciamo lo stesso discorso prendendo prendendo stavolta o coincidente con p2 prendiamo o coincidente con p2 allora viene mp0 meno p2 uguale m1 p1 meno p2 e p meno 0 perché allora cosa avviene è che p0 meno p2 è parallelo a p1 meno p2 quindi la figurina da fare sarebbe che qui c'è p2 qui c'è p1 allora p0 meno p2 potrebbe essere così potrebbe essere così questo è p1 più 2 o potrebbe essere anche così perché noi non lo sappiamo p2 p2 p1 p0 potrebbe essere anche così però abbiamo detto che la posizione è quella di p0 quindi qual è il caso che è compatibile cioè il caso compatibile è questo no? che p0 sta fra mezzo quindi p0 deve stare tra p1 e p2 bene allora se p0 sta fra p1 e p2 mi valgono queste relazioni che lascio scritte e lascio semplicemente queste qui e consideriamo allora di il modulo di p1 p2 poi poi chiamiamo di 1 il modulo di p0 meno p1 e di 2 il modulo di p0 meno p2 cioè praticamente di la distanza tra p1 e p2 di 1 la distanza tra p1 e p0 e di 2 la distanza tra p0 e p2 allora questa relazione cosa mi dice che cominciamo dalla prima md1 è uguale a m2d perché prendendo i moduli viene così quest'altra dice md2 è uguale a m1d o dividiamo membro a membro queste cose queste relazioni dividiamo membro a membro e quindi cosa abbiamo che qui si semplifica l'm e rimane di 1 fratto di 2 qui si semplifica il d e rimane m2 fratto m1d2 e là viene fuori che d1 fratto di 2 è uguale a m2 fratto m1 cioè che c'è la proporzionalità inversa tra le distanze di p0 p1 p2 e p0 sarà qui questo è un fatto più grosso per dire che ha più massa questo sarebbe il d1 e questo sarebbe il d2 è ovvio che se le masse sono uguali qui c'è l'1 e quindi di 1 uguale a d2 quindi se m1 uguale m2 allora allora p0 sta sta nel punto medio di più una pittura questa è una cosa ora non so se è dimostrata in questo modo ma è una cosa anche dalla fisica forse anche da cose più della scuola superiore insomma però non si chiamava centro di massa si chiamava in un altro modo ma l'altro modo ve lo dirò fa un po' allora altra proprietà del centro di massa altra proprietà del centro di massa ed è quella che si chiama proprietà distributiva del centro di massa proprietà distributiva del centro di massa proprietà distributiva del centro di massa cosa dice questa proprietà dice che il centro di massa di un sistema si può calcolare dividendo il sistema in due gritti e poi trovando il centro di massa tra i due centri di massa dei gruppi considerati come punti a 20 la massa di ciascuno dei gruppi ora non so se questa frase sia chiara la dico a parole supponiamo io abbiamo un sistema di nove punti allora ne prendo quattro e li metto da una parte e cinque da quell'altra dei quattro calcolo il centro di massa c'era un certo punto mi calcolo la massa di questi quattro punti e considero il centro di massa con la massa di questi quattro punti poi prendo gli altri cinque punti mi calcolo il centro di massa di questi cinque punti prendo il punto in questione e gli do la massa della somma delle cinque masse e poi mi calcolo la massa di questi due punti che hanno uno una certa massa e quell'altro quell'altra massa vediamo come si dimostra questo fatto e questo fatto è abbastanza è abbastanza come dire semplice da dimostrare allora più il meno questa è la definizione del centro di massa allora se io questa somma la divido in due somme somme primo più il meno più somme secondo più il meno allora considerando che somme primo sono le somme del primo gruppo di punti e somme secondo sono le somme del secondo gruppo di punti allora se io chiamo p con zero primo il centro di massa del primo gruppo eh e p con zero secondo il centro di massa del secondo gruppo cosa ho? ho che questo è uguale a m m primo p zero primo meno nel senso che questa è la massa del primo gruppo poi mi fa un esempio e si capisce che cosa sto dicendo se non si è capito ora e questa è la massa del secondo del secondo gruppo ed è venuto quello che ho detto cioè il centro di massa è il centro di massa tra questi due punti p zero primo e p zero secondo considerati uno con la massa m primo e uno con la massa m secondo allora facciamo un esempio non è che eserci questo è un esempio calcolare il centro di massa di tre punti di uguale massa allora questi tre punti però andavano essere sulla stessa retta eh non non allineati se no è finita la testa allora esempio calcolare il centro di massa di tre punti non allineati con masse masse uguali allora quindi tutto sta qua l'altro punto sarà qua l'altro punto qui ci andiamo allora secondo la la proprietà distributiva io posso calcolarmi i centri di massa parziali allora tra questi due punti io lo so dove sta il centro di massa che sono due punti uguale massa di conseguenza misuro quant'è il segmento a b qui sta il centro di massa tra i b allora a questo punto l'altro gruppo no è costituito un poverino da solo dal dal punto cm allora a p0 primo da massa 2m perché la massa totale di a più b è 2m allora io so che il centro di massa tra p0 primo e c sono due punti sta sul segmento che unisce p0 primo e c e divide questo segmento in parti inversamente proporzionale alle masse quindi vuol dire che p0 è più vicino a p0 primo perché c'ha più massa allora qui c'è m qui 2m qui si significa che questo è un certo questo è un certo che ne so l e questo è un certo 2l quindi quindi p0 divide p0 primo c in due parti una doppia dell'altra tanto per se non vi foste accorti questi a b e c sono vertici sono vertici di un triangolo e questa sarebbe la mediana infatti in un triangolo il centro di massa è il baricentro cioè il punto di incontro delle mediane di un triangolo come mene che e che é